ciao questo nuovo video che volevo dedicare solamente a questo video all'uscita di Carl Juro Eite che mi è arrivato oggi il parco da Mangamania che mi è arrivato alla Riot con il suo box che sono questi qua più più assieme mi sono arrivati anche i suoi gadget che davano che davano insieme che cominciò a farvi vedere magari i gadget che il primo è il segnalivo che da che davano era questo qua poi assieme davano anche ho visto che davano anche un sacchetto un sacchetto di carta cioè è fatto di carta un po spessa il crattocino sempre con l'immagine di Carl Juro Eite che questo qua che l'immagine è uguale che al fine è un sacchetto a fine è un sacchetto con lì sempre con le immagini di Kaju poi sempre con Kaju davano questo libricino che in teoria dovrebbe avere le prime le prime come si dice forse le prime tavole per fattive vedere come è fatto il manga che questo qua che è un libricino che con forse le prime pagine del manga e che adesso devo ancora capire cosa cose praticamente questo qua però lo davano come gadget e me l'hanno messo dentro la scatola che me l'hanno messo dentro e voglio magari adesso capire magari se sicuramente sono le prime le prime tavole magari del ma del magari del manga poi assieme da davano anche il come si dice che sono riuscito a che dentro al pacco genera uno però dopo sono riuscito a recuperarne altre 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 due che ho visto che che dentro davano anche e mi hanno messo mi hanno messo anche il poster che questo qua sempre quella scritta Kaju che questo qua vedete che è un piccolo poster che è molto come cosa magari questo del posto è molto carina però tranne magari le cose che magari ho visto che ho trovato dentro a questo al cofanetto questo davanti col dietro che questo qua che solamente il cofanetto costa 14 euro e 90 che ho visto che dentro apre si apre si apre si apre magari il cofanetto dentro trovi magari si trovano altre altre ci sono altre altre rischiali gadget dentro che adesso vi faccio vedere i gadget che i gadget che trovi dentro quindi come si dice uno e il portachiavi e poi trovi la spilletta sempre con l'immagine di Kaju 8 che è questa qua adesso non mette tanto fuoco però l'immagine se si riesce a capire però l'immagine è questa qua poi un'altra spilletta con l'immagine magari diversa la spilletta però questa dovrebbe essere una questa è una specie di calamità che in teoria poi mettere magari sopra attaccata magari il frigo da qualche altra parte dove voi c'è e dopo l'unica cosa che magari non sono riuscito tanto tanto magari tanto a capire questa tessera che hanno fatto sempre della star comics sempre con l'immagine di Kaju che anche all'inizio pensavo che poteva magari essere una specie di buono scontro da utilizzare o magari una specie di tessera ricaricabile o qualcosa invece qualcosa di genere invece voi solamente una tessera una tessera come sempre la sempre con l'immagine di Kaju dopo continuando continuando ad aprire magari il box trovi dentro il si trova dentro il numero il numero uno e il numero due del manga che adesso volevo come si dice incominciare magari a leggere il numero uno e magari dopo come si dice il numero uno e il numero uno che magari se riesco a fare un altro magari video magari dedicato 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 magari solamente a a lui questo guardando adesso che che proprio questo che davano in in omaggio e e e proprio l'inizio proprio del 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 manga che quello che vedi all'inizio qua c'è anche dentro nel 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 manga nel manga che sono e sono sono le prime immagini che niente che voglio magari incominciare a a leggere magari quello che stavo dicendo che volevo incominciare magari a leggere magari il il primo e dopo magari fare la recensione fare un altro video su questo su 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 questo manga che come partito e dai volumi che magari che ci devono che hanno intenzione di fare deve essere un bel sicuramente un bel manga anche un po' con un bel po' di numeri che che merita che sicuramente con il manga sperando solamente che dopo come si dice perché partito bene è l'unica speranza che che dopo ma magari con i numeri che escono dopo magari non è non ha un eh come si dice un specie di crollo che non vede più proprio come è partito sembra eh buono come il manga e anche eh come eh come anche come storia proprio la trama del manga eh al massimo se riesco magari più avanti faccio questa questa come si dice questo video per recensione di questo manga quando si riesco a leggere in tempo il 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 primo e niente questo è solamente a parte delle eh eh del come si dice del del box che è uscito eh per il primo qualche giorno fa dopo eh però a me è arrivato tutto assieme eh mi è arrivato anche assieme questa eh 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 questa variante edizione che questa è come eh come variante sopra la copertina davanti e è un po' più eh come si dice eh al tatto è un attimino la copertina è un attimino un po' più ruvida se la tocchi qua sulla specie di maschera eh è assieme anche se eh come variante costa 6,90 però eh eh dovrebbe contenere che dentro dovrebbe contenere quattro card esclusive eh eh con le eh illustrazioni eh che c'è scritto qua dietro che le immagini del quattro card dovrebbe essere così e niente poi eh questa era la la variante dopo eh mi sono preso lo stesso numero uno eh normale fuori dal eh fuori dal eh dal suo eh magari cofanetto che eh dal suo cofanetto separato che il primo numero non male che questo qua che costa 4,90 solamente se lo prende singolarmente eh che è una una serie che Kaiju è una serie fatta dalla Star Comics e niente dopo gli altri due che mi sono preso eh sono quelle eh la limite edition e quella eh quella eh quella limite eh edition e a questa qua che questi due ultime due eh eh copertine di Kaiju come si dice eh sono uguali tranne questa qua la limited che che c'ha un po' i se si riesce a vedere magari qua sul video c'ha un po' i i riflessi i riflessi argentati un po' eh eh anche i riflessi qua argentati un po' verdi qua che questa qua qua la limited ed eh edition che costa un attimino di più della eh magari della variant che era questa qua che la variant costava 6,90 e questa qua la limited edition eh eh che c'ha quattro segnali libri metallizzati dentro eh costa sette euro sette euro e novanta che i quattro segnali libri che troia eh qua fanno vedere eh i quattro segnali brico con le loro immagini che 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 guardando così i miei libri eh sembrano eh eh molto belli poi come eh la 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 come si dice eh c'è un'altra eh eh come si dice l'ultimo che che davano eh la copertina eh 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 sempre cari giù con la copertina normale uguale al man eh eh alla serie normale che questa qua senza non la variant davano se ne prendevi c'era anche quello con il eh che la copertina è uguale però davano quello con un pezzo di 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 puzzle dentro che intoria eh che ha che è uno dei due pezzi che deve completare questo puzzle eh che il puzzle è grande dovrebbe risultare grande come come tutto come si dice come tutto il eh la larghezza qua delle manga che dietro eh che si vede che si vede qua c'è il il eh come si dice il primo pezzo di due eh dei due puzzle eh dei due pezzi di puzzle che che qua già si vede che 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 della sempre eh grandezza come grande come il come il manga eh che dovrebbe essere eh bello anche magari anche questo qua come eh come eh come cosa però come si dice quello che sono riuscito eh a a prendere fino adesso di kaiju e questo qua che che il suo cofranetto con i suoi primi quattro quattro versioni normale variante e la limite del più l'inizio questo qua con i suoi gadget e voglio fare questo video eh dedicato solamente a ma eh sommità kaiju perché come è partito eh kaiju eh eh sembrerebbe molto eh come si dice molto molto bello e sperando che ecco eh eh che conti che continui così questo manga qua anche se siamo ancora all'inizio e perché sembra anche una bella come anche una bella serie eh anche come come trama eh ho visto che a me eh piace molto per adesso eh adesso per vedere per come si dice per fare il video eh magari eh per fare il video eh magari dopo aver letto magari il primo magari dopo magari adesso eh vedo se riesco se riesco a farlo al massimo eh dopo che eh cominciò magari a leggerlo e dopo magari vedo se è un video dedicato un altro video sempre dedicato a Kaju dopo aver letto il primo numero a massimo a massimo come si dice ci vediamo eh con i miei soliti video degli acquisti manga che faccio eh come al solito che quando mi arrivo al parco faccio il mio solito eh il mio solito video degli acquisti eh e niente per adesso come i video dedicato a Kaju che potevo farvi vedere ho finito eh ci vediamo magari al prossimo al prossimo più avanti magari tra qualche giorno quando mi arriva il nuovo eh il nuovo parco da parte di Mangamania eh e niente per adesso vi vi saluto ciao ciao